Allora, ciao, faccio questo video moltissimo veloce, col cellulare di mia storia, perdono, ma così lo carico direttamente su YouTube e sono in treno, forse si vede, sono un po' sconvolta, che ho appena finito di lavorare, da oggi ho cominciato a lavorare a questo video comunicazioni di servizio, da oggi ho cominciato a lavorare a Venestia e sono molto contenta, anche perché sono al conservatorio di Venestia, in segreteria, come se volete venire a trovarmi qui, però io ricordo che è anche in provincia di Verona, quindi ho due ore di treno d'andata, due ore di treno ritorno e quindi ho il tempo per dormire e respirare a malapena e quindi starò un po' più piaccia di giocare.